Il mio vento dell'Ovest Mi ha reso un terribile torto. Le mappe conducevano a delle reliquie che brillerebbero nella mia collezione. Trovale e ti sommergerò di drachme. Che è successo? Quel bastardo di autolico è un imbroglione e un ladro. Mi ha derubato di alcune delle migliori opere di Anassimandro. Sicuramente vorrà trovare i miei tesori e venderli per una fortuna. D'accordo, d'accordo. Lo troverò prima che possa farlo. Si aggira dalle parti di Nauplia. Cercalo lì. Vedrò che riesco a scoprire. Ah, perfetto. Con queste troverò i tesori che vuole Xenia. Ah, perfetto. Forza. Deve essere il posto giusto. Ah, perfetto. No. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.